Sono oltre 70 i progetti realizzati e un corso di attuazione nel Comune di Fano e per rendere partecipe alla cittadinanza sull'immagine anche futura della città, l'amministrazione ha organizzato un convegno che si svolgerà venerdì alle 17.30 per presentare il Piano Strategico 2030. In particolare sono 22 le azioni significative intraprese negli ultimi 5 anni che verranno illustrate per l'occasione. Tra queste rientrano la Biblioteca Federiciana, la Darsena Borghese, il Paricentro, il Waterfront, l'ex caserma Paolini, il Parco Urbano, la candidatura di Fano a Capitale della Cultura 2022 fino al piano sociale e a quello dedicato agli itinerari ciclabili. Fanisi, qual è l'obiettivo di questo incontro? L'obiettivo dell'incontro è quello di fare un po' una manutenzione straordinaria di quello che fu il programma sviluppato qualche anno fa insieme alla cittadinanza che era Orizzonte Fano 2030. Lo facciamo rinvitando tutte le persone che avevano partecipato a quella serie di incontri che ci avevano permesso di poter zoomare su alcune caratteristiche della nostra città e ci avevano permesso di costruire un piano strategico che adesso va aggiornato. È un motivo anche per fare un po' il punto della situazione rispetto a tutti i progetti che avevamo messo in cantiere e a che punto siamo, a che livello siamo di progettazione e di sviluppo. E lo facciamo in un posto direi particolare, speciale, che è un orgoglio della nostra città e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi. Perché lo faremo al Marine Center, ovvero il vecchio centro di biologia marina lungo il mare a Sassonia di Fano perché quello è un progetto, come dire, emblematico. Era un vecchio centro di biologia marina, è diventato un centro di ricerca, che ha cambiato nome, Marine Center, che è diventato un centro di ricerca di livello internazionale, che ha visto la collaborazione di diverse università e abbiamo chiesto al Marine Center di metterci a disposizione la loro sala per appunto fare il punto della situazione rispetto al piano strategico Fanno 2030. È un motivo anche per rincontrare, rivederci e parlare insieme del futuro della città. Parteciperanno oltre all'amministrazione comunale, che illustrerà un po' le sue prospettive, anche avanzi che la società che seguì il piano strategico diversi anni fa e interventi qualificati di persone da fuori che ci possono dire come poter sviluppare e come intercettare anche i fondi per sviluppare i nostri sogni, le nostre idee e gli obiettivi bandiera che ci poniamo di poter realizzare da qui a qualche anno.